Getafe poi Bayer Leverkusen o Glasgow Ranger basta deponiamo lascia di guerra togliamoci dalla mente il rancore che abbiamo sui vari giocatori chi poteva rendere di più e sta rendendo molto meno rispetto alle aspettative chi ha sempre fatto cagare e ci ha sempre fatto schifo come individuo deponiamo lascia da guerra deponiamo e dimentichiamoci degli errori fatti fino ad oggi 10 luglio adesso è ora di fare sul serio il primo obiettivo stagionale è stato conquistato la qualificazione in Champions League e ci tocchiamo i maroni perché diciamo matematicamente non ancora lo siamo qualificati primo obiettivo anzi stagionale vincere due derby è stato conquistato lo scudetto ragazzi sarebbe stato utopistico pensare che una squadra finalmente con un grande allenatore sì ma con dei giocatori nuovi e giocatori provenienti da squadre tipo Sassuolo Cagliari eccetera eccetera era era veramente utopistico pensare che avremmo potuto lottare contro squadre che acquistano giocatori dal Paris Saint Germain come Rabiot dal Real Madrid come CR7 eccetera eccetera quindi quindi deponiamo dimentichiamoci di questa mini stagione fallimentare rispetto a tutto il bene che abbiamo fatto nel girone di andata dimentichiamoci tutto smettiamola io per primo a criticare Gagliardini di turno il Lautaro che non passano la palla a Sanchez anche se io ieri dopo 40 metri di azione 30 40 metri di dribbling in solitaria avrei tirato anch'io smettiamo smettiamola di criticare io in primis Skriniar per le prestazioni penose smettiamola di mettere in dubbio Conte cosa che il sottoscritto non ha mai fatto smettiamola di pensare negativo e pensiamo che c'è un Europa League da conquistare pochissime se non nessuna squadra è più forte di noi più forte di noi in questa competizione e si può salvare realmente una stagione che ad oggi io la reputo positiva dal punto di vista del gruppo dal punto di vista dello spirito che ha voluto esprimere il mister e lo spirito che hanno che hanno espresso anche i giocatori perché l'anno scorso un condottiero come Lukaku noi non ce l'avevamo avevamo un ragazzino viziato che cresceva i 15 figli fatti da un altro che arrivava in allenamento con l'elicottero che si faceva comandare dalla moglie quindi qualche passo avanti è stato fatto ragazzi ma non è sufficiente non è sufficiente non serve un Lukaku a questa squadra per fare la differenza servono 3-4 profili alla Lukaku al netto di questo buttiamoci tutti alle spalle prossimo avversario il Getafe da sconfiggere assolutamente partita secca poi Glasgow Ranger e non mi ricordo negli ultimi anni partite contro di loro Bayer Leverkusen dolci ricordi e la vittoria a Leverkusen senza attaccanti titolari con un 18enne Martins che segnò il primo gol e il raddoppio segnato Demre Belozoglu dopo un'azione forse l'unica azione degna di nota fatta da Coco con la maglia dell'Inter quindi ragazzi pensiamo in positivo da oggi in poi o da inizio di agosto in poi quando inizierà la competizione perché è vero che non possiamo esprimere il nostro affetto il nostro calore la nostra vicinanza attraverso lo stadio però io sono convinto che in finale lo stadio lo riapriranno di Europa League fine agosto e lì ci dobbiamo far trovare pronti incazzati vogliosi e dobbiamo cantare un decibel in più rispetto alla tifoseria avversaria un decibel in più dal primo al novantesimo speriamo bene quindi forza sosteniamo anche se da casa tutti i giocatori dell'Inter anche chi ha reso meno anche chi non sta rendendo anche chi ha fatto schifo dal primo giorno basta così adesso c'è un obiettivo e dipende solo dall'universo Inter in Europa League non abbiamo la scusa degli arbitri in Europa League abbiamo la scusa degli infortuni della pandemia ma la pandemia c'è stata per tutti quindi dipende solo da noi c'è una linea una linea sottilissima tra fallimento o stagione anonima meglio dire è una stagione da incorniciare tutto dipende da voi cerchiamo di dare noi in primis ma soprattutto calciatore e mister qualche cosa in più perché l'Inter nelle partite eliminazione diretta o perlomeno nel girone di Champions contro squadre più forti rispetto a Sassuolo rispetto al Cagliari rispetto al Verona ha dimostrato di potersela giocare tolto il Barcellona con tutte e squadre più forti o forti come il Barcellona in Europa League non le vedo c'è il Manchester United è vero ma è una squadra che in campionato arranca ha un allenatore tutto sommato giovane quindi che non può fare la differenza quello che voglio dire ragazzi andiamoci a prendere questa cazzo di Europa League non voglio senza se senza ma andiamoci a prendere questa cazzo di Europa League se ci credete iscrivetevi al canale attivate la campanella pollice su fatemi sapere cosa ne pensate e spero tanto che aprino lo stadio a Colonia in Germania per la finale forza Inter avanti fino al trionfo